Buongiorno a tutti, benvenuti a voi studenti e professori che hanno scelto di accompagnarvi alle scuole numerose e accademie che hanno deciso di accogliere l'invito che il collegio universitario Luigi Lucchini vi ha rivolto nell'ambito delle iniziative e della rassegna promossa per le scuole. Siamo alla seconda giornata della scienza, giornata di studio e di riflessione che realizziamo in collaborazione con l'Accademia Nazionale dei Lincei grazie alla collaborazione della Fondazione Grazioli. Saluto a nome del Presidente Preti e a nome del Presidente della Fondazione Grazioli il Professor Piva. e la cosa più veloce per capire cos'è questa nuova struttura formativa che quest'anno compie cinque anni, prima di introdurci nel tema scelto, è guardare brevemente il video che illustra la storia e le attività formative che si svolgono nel nostro collegio dedicato a studenti universitari meritevoli e motivati che frequentano i corsi di laurea dell'Università degli Studi di Brescia. Il Collegio Universitari Potete continuare a seguirci su Youtube, la diretta in streaming della conferenza di oggi. Alcune scuole hanno poi deciso di collegarsi e quindi ci stanno ascoltando e seguire anche le attività del Collegio oltre che sul nostro sito anche sulla pagina Facebook. Io do la parola al nostro coordinatore del Comitato Culturale, il Professor Giancarlo Probasi, che è qua alla mia destra, che ha voluto insieme al Comitato Culturale e soprattutto all'Accademia e alla Fondazione Grazioli di proporre questo tema molto significativo, di grandissima attualità, la scienza nuova, intelligenza artificiale e robotica umanoide e per discutere, per riflettere su questo tema abbiamo un ospite veramente eccezionale che ringraziamo per la disponibilità, il Professor Giorgio Metta, Vice Direttore Scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che come molti di voi sapranno è un centro di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione. Il Professor Giancarlo Probasi è docente di Sociologia dell'Innovazione, ha avuto docenza in altre università ma da molti anni è un pilastro dell'Università degli Studi di Brescia, è stato anche prorettore, animatore e convinto sostenitore della nascita e della vita del Collegio. Oggi in veste di professore e di Discast proporrà appunto un sguardo su questo tema in dialogo con il Professor Metta. Come vi abbiamo annunciato c'è la possibilità di intervenire, di fare domande nello schema che verrà ora illustrato. Io vi ringrazio ancora e davvero vi auguro una mattinata che lasci un po' il segno nella vostra formazione perché questo è lo scopo del nostro collegio, vicini ai giovani e capaci di farli riflettere e di creare anche una mente aperta. Grazie. Buongiorno e bentrovati. Intanto qualche ringraziamento doveroso. Innanzitutto al Professor Metta che per noi è un privilegio averlo oggi, vi renderete conto delle tante cose che ci porterà. So che è molto impegnato e quindi lo ringraziamo per aver trovato il tempo di essere qui questa mattina con noi. Un ringraziamento poi all'Accademia dei Lincei e in particolare al centro linceo interdisciplinare Beniamino Segre che come ricordava anche la professoressa Bisleri un attimo fa ha organizzato e organizza queste giornate lincee sulla scienza come momento importante di formazione degli studenti delle scuole superiori e questo è il secondo incontro che abbiamo, uno l'abbiamo avuto lo scorso anno dove abbiamo messo a confronto tre discipline, la fisica, la biologia e l'economia in un incontro di tipo interdisciplinare. Quest'anno abbiamo scelto invece un tema diverso di cui poi dirò brevemente qualcosa. Infine un grazie particolare alla Fondazione Grazioli che forse molti di voi non conoscono. La Fondazione Grazioli è una fondazione che ha una lunga tradizione nella realtà bresciana e si occupa prevalentemente negli ultimi anni almeno statutariamente di supporto ai giovani e agli studenti delle scuole superiori e dell'università con borse, con primi di laurea e negli ultimi anni con la partecipazione attiva del Presidente, il Professor Enzo Piva che questa mattina ci onora della sua presenza che è anche accademico dell'Incei e attraverso l'Accademia dell'Incei organizza anche una serie di azioni di formazione degli insegnanti delle scuole superiori e anche di iniziative come quelle del Collegio che oggi stiamo organizzando. Quindi grazie a tutti questi che rendono possibile l'iniziativa di oggi. Brevemente il Professor Giorgio Metta giovane come potete vedere giovane come potete vedere anche se ha la barba un po' bianca ma abbastanza giovane è laureato in ingegneria elettronica ha un dottorato di ricerca presso l'Università di Genova ha compiuto, è stato fellow per alcuni anni presso il Laboratorio dell'Intelligenza Artificiale dell'AMIT di Boston e da diversi anni ormai poi magari ci dirà lui da quanti è il coordinatore e responsabile scientifico di un grosso team di ricerca che ha sviluppato questo che già vedete alle mie spalle questo umanoide questo robot umanoide che si chiama iCub questo cucciolo di robot che si chiama iCub e di cui ovviamente poi avremo modo di conoscere meglio durante il suo intervento è professore anche di robotica cognitiva presso l'Università di Plymouth in Gran Bretagna il titolo di questo incontro che abbiamo pensato e voluto la scienza nuova intelligenza artificiale e robotica umanoide la scienza nuova una brevissima osservazione forse a qualche studente presente questo scienza nuova ha suggerito un qualche riferimento non so quanti di voi hanno trovato dentro questo termine scienza nuova qualche reminiscenza di storia della filosofia scienza nuova è il tema centrale di Gian Battista Vico il libro fondamentale di Gian Battista Vico non è una citazione come dire così che è venuta per caso è stata un po' voluta e cercata perché come alcuni sanno Gian Battista Vico è stato un filosofo importante nella storia della filosofia particolarmente in quella italiana ma soprattutto perché ha come dire dibattuto in maniera molto importante e significativa con un altro filosofo che molti di voi conosceranno senza altro che è Cartesio e nei confronti di Cartesio ha tenuto sempre una posizione molto critica rispetto all'idea cartesiana dell'uomo come fatto esclusivamente di mente e di razionalità ecco allora la scienza nuova di cui ci parlerà in maniera molto concreta Giorgio Metta tra poco è anche questo è anche il tentativo di costruire un umanoide che come tale non è soltanto cervello non è soltanto mente ma è una interazione molto interessante significativa tra mente e corpo questo essere si presenta con un suo corpo con una sua realtà corporale fatta anche di sensi e vedremo che una delle parti forse più interessanti della ricerca che stanno facendo è proprio come dotare di sensi questo essere meccanico dire meccanico forse è riduttivo rispetto all'idea di un umanoide che deve essere come ci dirà bio ispirato deve essere ispirato in qualche modo all'organismo umano come siamo come siamo noi dotati quindi di sensi di emozioni di sentimenti e questo voleva un po' essere Vico fin dall'origine ha messo in discussione questa separazione tra mente e corpo e la ricerca interdisciplinare il gruppo interdisciplinare che il professor Metta coordina tenta proprio di fare un'operazione di questo genere però ho preso fin troppo tempo a questo punto lascio la parola senz'altro a Giorgio Metta ringraziandolo ancora per essere qui con noi poi ovviamente discuteremo un po' delle cose che lui ci dirà solo un aspetto di solo un aspetto solo un aspetto tecnico dopo la presentazione dopo un minimo di discussione avremo tempo per domande sia da parte dei presenti circolerà un microfono e quindi avrete la possibilità di chiedere la parola e fare delle domande sia anche per gli studenti che ci vedono in streaming dal piano dal piano dal piano va bene ci scusiamo per speriamo che i cab sia un pochino più flessibile rispetto a queste cose grazie 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 intanto per l'invito mi ha fatto molto piacere riuscire ad accettare come si diceva appunto tra i vari impegni volevo dire due per iniziare altre due parole su di me perché va bene che faccio il vice direttore scientifico dell'istituto si chiama di solito questo compito istituzionale in realtà io lo chiamo burocrazia poi nella mia vita la mia passione in realtà è per la robotica e nell'argomento che vorrei coprire appunto in questa presentazione di oggi vi dico però due cose sull'IT perché credo che sia un esercizio interessante l'IT stesso per la ricerca italiana è stato un oggetto nuovo creato diciamo per legge solo nel 2003 poi ci è voluto del tempo a costruire i laboratori a far partire la ricerca e così via quindi se lo confrontiamo a qualunque altra istituzione italiana l'università italiana è un oggetto giovanissimo abbiamo di fatto dieci anni di vita l'istituto è nato per diciamo con due scopi fondamentali uno quello di fare ricerca ma ovviamente si chiama un istituto di ricerca e quindi la ricerca è sicuramente fondamentale ma anche con una veste un po' nuova quella di istituto di tecnologia che vuol dire cercare di portare o avvicinare i risultati della ricerca all'industria quindi avere un impatto sul tessuto produttivo italiano il diciamo siamo nati con una sede a Genova e poi l'istituto si è allargato nel senso che è stato creato poi nel 2008 una rete abbastanza importante di laboratori in connessione con l'università italiana poi vi racconto meglio diciamo cosa facciamo e quindi forse si capirà meglio perché come parte del nostro piano scientifico siamo andati a cercare delle competenze che esistevano già in Italia e spero di farvi capire che in effetti in Italia esistono molte competenze anche di altissimo livello e che alla fine la tanto bistrattata ricerca italiana fa meglio della media europea per esempio cosa abbastanza a volte ci sorprendiamo e si pensa sempre in peggio ma in realtà la ricerca italiana va piuttosto bene l'istituto dal punto di vista della ricerca ha dato benissimo tant'è che l'anno scorso la rivista Nature una delle più importanti riviste sicuramente nel campo della scienza meno sugli aspetti tecnologici ha classificato l'IT tra i primi 25 istituti nel mondo diciamo con crescita più elevata quindi non come dimensione assoluta anche perché siamo piccoli tutto sommato ma quanto abbiamo migliorato negli ultimi cinque anni questo dal punto di vista delle pubblicazioni che poi sono la misura tipica di quanto vada bene la ricerca il motivo per cui credo che l'istituto sia andato bene da questo punto di vista è perché abbiamo fatto un investimento sulle persone importante l'istituto è un ente italiano quindi per certi aspetti segue tutte le procedure italiane quando parlo di burocrazia perché mi tocca un pezzo di questa burocrazia quindi procedure sono complicate però ha avuto libertà di fare di cercare le persone in una maniera internazionale tutto sommato e alcuni risultati sono riassunti in questi numeri il fatto che ad esempio abbiamo il 45% delle persone da 56 paesi diversi di questi calcoliamo anche un 16-17% di italiani che sono rientrati si parla spesso di fuga dei cervelli noi abbiamo visto un po' di ritorno di fronte a un'offerta di laboratori attrezzati un ambiente internazionale uno stipendio a standard europeo i ricercatori alla fine tornano quindi i problemi forse della fuga dei cervelli io li vedo più come una circolazione di cervelli alcuni vanno via ma alcuni tornano e tanti stranieri sono venuti a lavorare con noi nei nostri laboratori l'età media fatto di nuovo piuttosto importante è appena 34 anni quindi 35 forse quest'anno con un po' di variazione invecchiamo anche noi quindi ogni anno un pochino si invecchia però tutto sommato è rimasta rimane abbastanza bassa io non ho 35 anni però si vede non il più vecchio però vi dicevo prima dell'impatto della ricerca che abbiamo fatto negli anni passati quello che si vede in questi grafici questo qui è un numero un indice che misura di fatto quanto le nostre pubblicazioni vengono citate dagli altri lo si fa in una maniera pesata a seconda della disciplina perché se parliamo di robotica tutto sommato parliamo di un gruppo di ricerca piuttosto piccolo quando parliamo di neuroscienza parliamo di un gruppo molto più vasto immaginate che i convegni dove vado io se ci sono mille persone sono un'enormità i convegni delle neuroscienze ce ne sono 20.000 il convegno principale è una cosa che si può organizzare solo in quattro posti al mondo perché 20.000 persone vuol dire muovere una città nella stessa location quindi giusto per capire che le cose devono essere pesate ebbene i database internazionali fanno questi calcoli in maniera automatica e quando ci confrontiamo con gli altri in Italia scopriamo che siamo messi abbastanza bene noi siamo la prima colonna sulla sinistra nel grafico in alto e si vede che siamo un po' più alti di fatto il nostro numero dice che per ogni che veniamo citati quindi i nostri lavori vengono letti dagli altri scienziati circa due volte la media mondiale uno è la media mondiale il nostro indice è 2,1 se ci confrontiamo poi a livello internazionale il grafico di in basso scopriamo che siamo più o meno nella stessa zona con altri istituti piuttosto prestigiosi troviamo l'MIT troviamo Stanford direi no il Caltech troviamo il Max Planck tedesco il Weizmann di Israele e così via siamo nello stesso gruppo abbiamo preso alcuni come riferimento perché di nuovo bisogna considerare gruppi o istituti che facciano più o meno il nostro stesso lavoro se andiamo su campi differenti troviamo dei numeri un po' diversi ad esempio chi fa ricerca diretta nel campo dei farmaci ha numeri molto più alti tipicamente di nuovo il numero di citazioni cambia questo giusto per darvi un'idea su che cos'è l'istituto cosa facciamo però è riassunto in quest'altro diciamo schema dove ve lo posso riassumere ulteriormente facciamo tre cose fondamentalmente la robotica ve l'ho già detta facciamo neuroscienza e facciamo scienza dei materiali poi per ognuna di queste e qui il motivo per cui qui trovate in questa slide trovate 11 blocchetti ognuna di queste può essere declinata in varie forme per esempio la robotica ha una componente più fondamentale che è quella che trovate al centro che noi chiamiamo semplicemente robotica poi c'è una componente applicata e quella in alto sulla destra questa è robotica per la riabilitazione quindi l'utilizzo delle tecnologie sviluppate da me facendo robotica di base per costruire delle macchine che aiutino le procedure di riabilitazione su questo IT ha avuto un programma diciamo piuttosto interessante finanziato dall'Inail per realizzare dei dispositivi appunto per la riabilitazione che ha raccolto diversi milioni e un gruppo di ricercatori dell'IT dal mese scorso ha costruito una propria ditta una propria company con la quale proverà a portare sul mercato queste soluzioni quindi non solo abbiamo fatto la ricerca ma poi questa ricerca si sta traducendo in qualcosa che probabilmente nei prossimi anni sarà un prodotto sarà un prodotto utilizzato negli ospedali per semplificare le procedure di riabilitazione per farle meglio per consentire a un solo fisioterapista magari di gestire 20 pazienti in parallelo quindi rendendo disponibile la riabilitazione per tanti in maniera più efficace esiste poi una versione più se volete di punta della robotica che qui nel nostro programma si chiama interactions che vuol dire semplicemente lo studio dell'interazione tra l'uomo e la macchina quindi capire come generare delle interfacce o un'interazione più naturale tra il robot e l'essere umano di questo ve ne parlerò perché vi voglio dare due indicazioni di cosa voglia dire e poi fare anche queste cose c'è un altro modo di descrivere questo piano scientifico che è pensarlo ispirato alla natura di fatto tutto quello che facciamo va a vedere nei tre punto qualcosa miliardi di anni passati cercando di capire come l'evoluzione ha portato a certe soluzioni e noi magari ne copiamo qualcuna lo possiamo vedere per chi fa materiali se guardate questo grafico sulla destra si vede a un livello di scala molto piccolo la realizzazione di oggetti che alla fine li possiamo chiamare dei nanobot sono degli oggetti di diametro centinaia di atomi ma non tanti di più che si possono utilizzare per esempio per portare dei farmaci all'interno del corpo umano e rilasciarli solo dove serve sono dei robot perché hanno dei sensori molecolari chimici e hanno degli attuatori queste sorte di palline si aprono rilasciando il farmaco solo dove serve quindi di fatto c'è tutto quello che serve a un robot c'è il sensore c'è una sorta di intelligenza e c'è la possibilità di generare qualcosa di fare un'azione che è l'apertura di questa pallina se poi guardiamo dall'altro lato di questa scala troviamo forse la cosa più avanzata l'umanoide il tentativo di copiare l'intelligenza e di fatto copiare la cognizione copiare quello che troviamo o pensiamo che esista solo dentro il cervello umano ora cosa vuol dire questo in pratica vi faccio vedere qualche esempio legato alla percezione in particolare alla visione allora intanto quello che si fa tipicamente su un computer è rappresentare i dati prendendo un segnale generico grafico sulla sinistra e misurandolo a istanti di tempo ben precisi quello che si fa si dice in gergo tecnico lo si campiona questo è quello che trovate quando voi ascoltate la musica sul vostro smartphone quello che è stato fatto da qualcuno è stato prendere la musica un segnale sonoro e appunto campionarlo in questo modo misurarlo a istanti di tempo precisi bene il cervello però non fa esattamente la stessa cosa fa qualcosa che è più simile a quello che trovate sulla destra i neuroni si attivano solo quando c'è qualche variazione e quindi noi abbiamo detto magari questa qui può essere un'idea furba un'idea intelligente perché non copiare il modo in cui i dati vengono rappresentati dai nostri neuroni e quindi quello che abbiamo fatto e quello che vedete sulla destra abbiamo realizzato ad esempio dei sensori visivi che vi danno informazione o spediscono dell'informazione solo quando c'è una variazione può essere una variazione di luminosità una variazione di colore quello che sia quello che succede o che si scopre è che il modo di rappresentare i dati del cervello è molto più efficiente devo usare meno bit per conservare lo stesso quantitativo di informazioni qui abbiamo lo stesso segnale nel caso di sinistra rappresentato in maniera tradizionale come si fa normalmente in un computer nel caso di destra con questi sensori particolari questo è un esempio il risultato che vedete in questo video è un'immagine un po' strana quindi l'occhio del robot in realtà non vede esattamente come una telecamera tradizionale ma vede solo delle variazioni la cosa interessante è che appunto il quantitativo di informazione che devo memorizzare conservare elaborare è molto minore in questa versione qui esistono delle altre cose interessanti se vado a osservare come siamo fatti noi di fatto un altro esempio è come sono messi i fotorecettori nella retina ora se voi provate a prestare attenzione a quello che succede nella periferia del vostro campo visivo scoprite che non avete una risoluzione elevatissima il nostro occhio non è fatto come una telecamera in realtà i fotorecettori sono più densi al centro e sono più radi in periferia il grafico che c'è in questa slide vi fa vedere esattamente come sono distribuiti questi fotorecettori se guardate quello più diciamo centrale quello che sono i sensori che misurano il che si chiamano coni un tipo particolare dei recettori vedete che hanno questa distribuzione molto densa al centro e poi se andate ai lati del grafico che rappresenta la periferia della nostra retina vedete che ce ne sono via via meno ecco questa è una cosa che si può copiare si possiamo invece che fare una telecamera tradizionale fare una telecamera che vede un po' in questo modo questo vi fa vedere cosa vuol dire utilizzare non so 6.000 pixel utilizzarne 12.000 18.000 25.000 o quello che è e distribuirli come li distribuirebbe come sono distribuiti nella nostra retina oppure utilizzare una telecamera tradizionale quello che si vede è che in questa distribuzione particolare che copia l'occhio umano io vedo sia il centro ad alta risoluzione e vedo e capisco anche il contesto ebbene nel robot abbiamo immaginato di copiare esattamente questa distribuzione ora poi a secondo delle elaborazioni che dobbiamo fare possiamo utilizzare questa una rappresentazione più tradizionale si possono fare diverse cose però l'idea è che andando a osservare la natura ogni tanto troviamo delle soluzioni interessanti queste ve le ho date come esempio non vi farò vedere altro ma volevo darvelo come così motivo di ispirazione perché poi alcuni dei risultati che farò vedere dopo sono basati su queste cose vorrei aggiungere ancora due cose su IT più in generale giusto per dare così per fare un'introduzione sulla robotica noi abbiamo realizzato negli anni diverse piattaforme qui ne vedete un po' andiamo da quelle più piccole all'umanoide gigante quello che vedete sulla sulla destra che è il robot per l'intervento in caso di disastro lungo la strada troviamo una serie di oggetti quadrupedi robot con ruote c'è un po' di tutto ma qual è la motivazione fondamentale perché lo facciamo beh ad esempio sotto gli occhi di tutti disastro naturale il terremoto l'alluvione venendo da Genova siamo particolarmente colpiti e quindi l'idea di avere delle macchine che possono intervenire in caso di disastro e quindi evitare che l'uomo sia in pericolo o debba operare in ambiente pericoloso è la motivazione per realizzare questi oggetti qui ne vedete uno in questo video vi dicevo un robot da un metro e novanta centocinquanta chili un oggetto piuttosto col quale non vorrei interagire non vorrei doverlo avere in casa però serve appunto e si può muovere operato a distanza da un essere umano per cui l'essere umano non deve correre pericolo mentre utilizza il robot per eseguire dei compiti qui vediamo un po' di movimenti questo è un video tra il pubblicitario e il reale nel senso che i movimenti ovviamente sono reali e si vede un pochino come viene operato il robot in una serie di scenari per fare delle azioni particolari questo robot ha partecipato a una competizione negli Stati Uniti due anni fa in uno scenario che era simile a Fukushima ricordate il disastro nucleare il robot doveva di fatto entrare in un edificio girare delle valvole fare tutte quelle serie di azioni che sarebbe stato utile avere quando è successo appunto l'incidente di Fukushima qui vedete come funziona l'interfaccia con cui l'operatore tranquillo seduto a una scrivania vede quello che vede il robot programma i movimenti e li fa eseguire al robot qui c'è l'apertura di una porta poi si vede tra un po' appunto il fatto che il robot possa passare da una porta c'è tutta una serie di esercizi e questi sono legati appunto a questo scenario di Fukushima qui c'è l'azionamento o la chiusura di una valvola e così via questo è un esempio questo esercizio che sembra un po' tutto sommato semplice serve per riuscire a prendere degli oggetti e spostarli ad esempio a Fukushima c'erano tanti detriti che potevano ostacolare il passaggio di una macchina come un robot per cui si è fatta questa ipotesi qua e qui lo si vede mentre guida un'auto mezzo elettrico stessa ragione arrivare fino a piedi fino alla centrale nucleare era complicato e dover scaricare il robot e quindi portare degli esseri umani e scaricare il robot era probabilmente non tanto salutare un altro esempio di macchina per intervento in caso di disastro è questo robot quadrupede che vedete in questo video qui si vede che un quadrupede in un ambiente dove ci possono essere appunto detriti ostacoli è molto più efficace diciamo la capra robotica è molto più efficace che il robot bipede e quindi si è immaginato di costruire una macchina di questo tipo adesso abbiamo un progetto nuovo anche se non esiste ancora il robot dove sulle quattro zampe verrà messo un busto con due braccia per cui sarà una sorta di centauro ma l'idea è che possa camminare come cammina il quadrupede arriva dove deve fare qualcosa col punto alle braccia con le mani e può effettivamente compiere delle azioni questo è un esempio vi ho parlato prima invece di riabilitazione vorrei far vedere un video vi chiedo di prestare attenzione perché è corto però secondo me è molto interessante qui si vede un paziente amputato che usa una mano la mano di fatto è la stessa che avete visto nel robot precedente è stata fatta di dimensione adeguata e collegata diciamo all'amputato con semplicemente due elettrodi le elettrodi misurano l'attivazione muscolare residua nella parte dell'amputazione e consentono di chiudere e aprire la mano la cosa interessante è che questa mano ha cinque dita e controlla le dita automaticamente in modo da fare quasi tutte le prese che sono necessarie all'essere umano circa l'85% delle prese questo l'avete visto consente di prendere gli oggetti di spostarli di utilizzare uno strumento diciamo di fatto il paziente dopo pochi mesi di utilizzo ha potuto fare bricolage che non è una cosa ovvia con una protesi tradizionale tutti questi sono idee che dalla robotica vengono trasportate poi alle applicazioni esiste poi un'applicazione un po' più da fantascienza infatti ve la introduco prendendo a prestito delle immagini da un film abbastanza recente dove si vedeva un robot che interagiva con delle persone ora questo scenario che può sembrare appunto fantascientifico in realtà è quello sul quale ci vogliamo cimentare con la robotica umanoide quindi realizzare macchine che possano interagire con noi nella vita di tutti i giorni possono eseguire dei compiti utili il motivo per cui abbiamo pensato di fare questo è che diciamo c'è un fatto fondamentale che è relativo all'invecchiamento della popolazione ora il Boston Consulting Group qualche tempo fa ha pubblicato un documento dove dice la seguente cosa tra ora e il 2030 la nostra economia potrebbe c'è un rischio per la nostra economia mondiale pari a circa 10 trilioni di dollari valutato in questa cifra qui per potenziale mancanza di forza lavoro ora spesso si sente parlare di robotica che toglierà il lavoro in realtà è probabile o almeno queste sono delle statistiche con delle proiezioni che la forza lavoro potrebbe mancare tutto quello che vedete nella colonna destra in rosso e in giallo è effettiva mancanza di forza del lavoro in una serie di paesi questo è diviso per continente e per nazione e vedete che scopriamo che l'Italia ha una popolazione che invecchia quindi questa mancanza potrebbe esserci effettivamente ma poi troviamo lo stesso problema negli Stati Uniti in India in Cina di fatto quasi ovunque se guardiamo cosa succede negli Stati Uniti sempre nel 2030 andate a prendere questi numeri scopre che circa il 20 un po' più del 20% della popolazione sarà fuori dall'età lavorativa quindi più di 65 anni che vuol dire più di 70 milioni di persone ed è chiaro che queste 70 milioni di persone non stanno lavorando però devono mangiare e saranno avranno bisogno di assistenza e se qualcuno fa assistenza per queste persone nelle fabbriche chi ci va quindi i numeri sono abbastanza importanti da avere un impatto sull'economia allo stesso tempo quello che succede diciamo cercando su internet si trovano ulteriori documenti che così analizzano questa situazione e che la robotica sta diventando o è stata proposta come una possibile soluzione in un documento diciamo del Pure Research Center c'è una serie di interviste a personaggi così abbastanza competenti sull'argomento c'è il vicepresidente di Google ci sono una serie di altri attori dell'industria soprattutto americana e la cosa che viene fuori è che tutti si aspettano che un certo tipo di robotica arrivi sul mercato da qui al 2030 forse ci metterà un po' di più però i tempi più o meno sono quelli troviamo Elon Musk il Tesla l'automobile ma anche una persona che ha investito circa un miliardo di dollari per una fondazione che si chiama Open AI Foundation per studiare l'intelligenza artificiale troviamo Google che solo qualche anno fa ha speso tanti soldi per comprare delle ditte che fanno robotica famosissima Boston Dynamics magari avrete visto i video su internet troviamo Toyota che l'anno scorso due anni fa in realtà ha costruito un laboratorio per studiare robotica e intelligenza artificiale l'ha costruito negli Stati Uniti troviamo Facebook che un tempo fa c'era Zuckerberg ai convegni di apprendimento automatico ai convegni di intelligenza artificiale che cercava di assumere persone che facessero intelligenza artificiale e ha costruito un laboratorio piuttosto ben finanziato in questo caso utilizza dati che non sono necessariamente quelli legati alla robotica sono quelli legati a Facebook il riconoscimento di immagini il riconoscimento di pattern nel comportamento delle persone e così via la cosa interessante è che nessuna di queste ditte di fatto è una ditta di robotica tradizionale nessuna di queste faceva robotica e non la faceva secondo i canoni standard dell'industria quello della automazione tradizionale l'altra domanda che potreste porre ma il 2030 è veramente il 2030 chi lo sa io quello che ho così mi sono immaginato la seguente cosa questi due grafici fanno vedere quanto ci ha messo l'automobile arrivare al 90% delle famiglie americane e quanto ci ha messo il telefono cellulare ho preso questi due esempi perché l'automobile è un po' la meccanica se volete rappresenta in parte quello che è la robotica quindi un oggetto con dell'hardware qualcosa di solido che ha bisogno di una manutenzione che si muove ha un pochino le regole dell'automobile per alcuni aspetti il telefono cellulare se volete soprattutto nelle ultime istanze quelle dello smartphone rappresenta l'intelligenza quindi la possibilità delle app di fare tante cose con lo stesso dispositivo il telefono cellulare ci ha messo 15 anni arrivare al 90% delle famiglie l'automobile forse 75 quindi i tempi sono un po' diversi chissà che la robotica non cade in mezzo a queste due cose oppure che le cose vadano diversamente faccia più in fretta ma non meno di 15 anni che un tempo tipico per l'arrivo sul mercato di una certa tecnologia ora se vi chiedete ma metta un pazzo lecito chiederselo però ci sono degli altri pazzi evidentemente come Bill Gates che nel 2008 in questo articolo per Scientific American diceva mi aspetto che a breve non dice quando però in tempi ragionevoli avremo un robot in ogni casa lui lo diceva nel 2008 facendo un paragone interessante diceva quando io ho iniziato con Microsoft c'è stata la transizione tra i grossi computer da industria e la computazione personale mi aspetto che la robotica che adesso è per l'industria principalmente faccia questa transizione verso la robotica personale quindi insomma siamo in buona compagnia allora noi come IT e in particolare il mio gruppo cosa abbiamo pensato di fare ci siamo immaginati appunto di costruire degli umanoidi dei robot personali con i quali iniziare a sviluppare le tecnologie in particolare potete immaginare che la meccanica e i sensori si riescano a realizzare sono cose tecnologicamente alla nostra portata noi tutti li abbiamo dentro gli smartphone l'intelligenza per queste macchine è qualcosa di più complicato vi faccio vedere un primo video così come introduzione dove si vede un po' delle cose che fa il nostro robot qui si vedono dei movimenti giusto per dare un'idea di come è fatto il robot cosa molto importante le mani per poter manipolare l'ambiente un robot senza mani è limitato non è tanto di più che uno smartphone ma qui vogliamo fare qualcosa di più dobbiamo avere modo di prendere le cose di manipolarle e qui si vedono tutta una serie di pezzettini di video presi dalle nostre ricerche in tutto quello che vedete il robot utilizza la visione per riconoscere gli oggetti li vede li prende interagisce con le persone in questo video ad esempio si vede che utilizza visione e tatto per capire se qualcosa lo sta per toccare e man mano che va avanti il video si vedono tutta una serie di comportamenti sempre più complicati immaginate che questo sia un bambino e via via gli stiamo insegnando tutta una serie di comportamenti di base quindi si parla e gli si fa vedere un oggetto in modo che lui lo possa memorizzare e riconoscere in futuro poi gli si insegna ad esempio come prenderlo un oggetto quindi come deve mettere la mano in modo da afferrarlo correttamente che è quello che vedete in questo momento e così via ora per fare questa ricerca servono un po' di risorse questo è il gruppo con cui lavoro siamo circa 80 e questo ci consente di fare tutta l'ingegneria necessaria a realizzare i robot perché quel robot che avete visto non si compra evidentemente l'abbiamo dovuto progettare e realizzare e ci consente anche di immaginare i software che girano su questi robot di immaginare la computazione di immaginare nuovi sensori e così via ora nel seguito della mia presentazione vi faccio vedere un po' di queste cose non tutte ma una buona parte questo è il gruppo principale c'è solo un aspetto importante che vorrei raccontare il grafico in basso a sinistra vi dice due cose che per fare ricerca c'è bisogno di un supporto tecnico non da poco per cui noi abbiamo più del 30% delle nostre persone che non si occupano di pubblicare di fare ricerca ma semplicemente di aiutarci a costruire i robot mantenerli in funzione far la manutenzione tutto quello che serve per progettarli senza che necessariamente questo diventi una scienza e semplicemente ingegneria vi dicevo di iCub le mani sono importanti di fatto il progetto è iniziato dalle mani noi abbiamo pensato prima la mano e poi tutto il resto del corpo questo è determinato delle scelte importanti per esempio la collocazione di tutti gli attuatori dei motori elettrici che muovono il robot è stata determinata dal fatto che nella mano non ci può essere tanto peso se io dovessi mettere i motori che mi servono dentro la mano la mano diventerebbe così grande evidentemente non è ragionevole per cui questa è stata la filosofia di progetto che poi ha condizionato tutto il resto del progetto i sensori altro aspetto importante abbiamo immaginato di mettere solo sensori umanoidi per cui dentro l'occhio del robot trovate effettivamente la telecamera per vedere dentro l'orecchio trovate i microfoni dentro la testa ci sono l'equivalente del nostro sistema vestibolare quindi sensori per sapere e capire se il robot è in equilibrio e così via l'altra cosa che abbiamo fatto che potevamo anche non farla però è stato un esercizio interessante è stato configurare questo progetto come una piattaforma aperta questo ha dato dei risultati del tutto inaspettati perché abbiamo scoperto che un sacco di altri ricercatori erano disposti a lavorare con lo stesso nostro robot e quindi abbiamo fatto anche una comunità abbiamo fatto se volete un po' di servizio per la scienza dando una piattaforma ad altri laboratori la cosa è andata piuttosto bene tant'è che al momento abbiamo ad esempio un robot umanoide italiano in Giappone l'università di Osaka usa uno dei nostri robot ce n'abbiamo uno in Corea quest'anno ne stiamo facendo uno che andrà a Singapore ce n'è uno in Cina uno negli Stati Uniti e tantissimi in Europa come potete vedere dai pallini per un motivo contingente i finanziamenti europei hanno aiutato i laboratori a pagare il costo di un iCub l'iCub sfortunatamente costa 250.000 euro per cui i laboratori hanno necessità di trovare i finanziamenti per pagarlo è andato anche bene da un altro aspetto da un altro punto di vista vi racconto solo un fatto simpatico nel 2012 il Financial Times è uscito con un articolo dove parlando del miracolo economico tedesco ha messo questa immagine ovviamente Angela Merkel perché rappresentava a Germania ma il robot sfortunatamente era italiano per cui questa macchina miracolosa per loro era italiana l'altra cosa che vi vorrei raccontare è perché alla fine fare un umanoide ci sono diverse ragioni una è più se volete filosofica filosofia dell'intelligenza artificiale un signore che si chiama Rod Brooks dell'MIT alcuni anni fa ha pubblicato quest'articolo che si intitola gli elefanti non giocano a scacchi mettendo o connettendo se volete il fatto che la forma del corpo è importante per sviluppare un certo tipo di intelligenza per cui noi abbiamo un'intelligenza umana perché abbiamo un corpo fatto in un certo modo tra l'altro risultati della neuroscienza più recenti ci fanno vedere come nel cervello ci sia una connessione molto stretta tra la percezione e l'azione per cui ci sono neuroni che hanno risposte sia visive sia motorie quindi questa ipotesi di Brooks tutto sommato è molto più reale di quello che si possa immaginare Brooks per capirci è il signore che ci ha portato in casa il Roomba una volta che ha lasciato l'MIT ha messo su una ditta di robotica iRobot che conoscerete perché ha fatto poi questo aspirapolvere robotico c'è un'altra ragione per cui si fa robotico umanoide io l'ho chiamata in generale interazione naturale tra l'uomo e il robot ma questo vuol dire anche che il robot lo posso mettere in casa e utilizza gli strumenti disegnati per me io non devo rifare la mia casa perché ho messo un robot il robot può accendere la luce accendere la tv usare il telecomando il microonde prendere forchette e coltelli un giorno il cacciavite per cui non dovrò rifare tutti gli strumenti a dimensione robot ma avrò un robot che invece ha dimensione umana per noi è stato anche molto divertente perché immaginate partire con un progetto dove ci siamo detti perché no ci facciamo un robot umanoide su sommato c'è una grossa diciamo un po' il sogno quello che immaginavamo da bambini almeno io lo immaginavo leggendo fantascienza diciamo ma perché no forse si può anche fare entriamo un po' meglio nella tecnologia vi ho detto prima dei sensori ora una cosa che credo sia unica del lavoro che abbiamo fatto è quella di dotare il robot del senso del tatto ora le telecamere potete immaginare che si comprino sono state sviluppate per il mondo della telefonia quindi costano anche poco i microfoni stessa cosa quando andiamo a vedere però invece il senso del tatto non c'è una soluzione semplice il motivo per cui non ci sia esistono i touch screen ma i touch screen non vanno bene io posso coprire un robot di smartphone per farlo diventare tattile e soprattutto la forma del touch screen è rigida e piatta mentre io ho bisogno di qualcosa che copra effettivamente la superficie del robot per cui quello che ci siamo inventati è stato andare a vedere come è fatta la tecnologia dei touch screen e trasformarla in qualcos'altro utilizzando materiali flessibili per cui trasformando lo schermo rigido in qualcosa di flessibile questo diciamo è abbastanza semplice da fare se non che ci vuole un po' di lavoro per effettivamente sviluppare la tecnologia il diciamo il circuito che la realizza e che vedete diciamo queste figure alla fine per dirvene una abbiamo scoperto quando abbiamo fatto produrre che dopo poco si rompeva e lì abbiamo dovuto iniziare uno studio sul materiale su perché si rompesse la ditta che faceva i circuiti diceva ma no deve funzionare peccato che nella nostra applicazione il materiale era stressato troppo perché schiaccia oggi schiaccia domani e si rompesse mentre l'utilizzo tipico era in situazioni statiche invece questa stimolazione continua creava dei problemi al circuito per cui questi sono degli esempi risultato è stato che siamo riusciti comunque a realizzare una pelle robotica ora perché è importante avere una pelle robotica perché per esempio scopriamo che nel nostro cervello esiste una rappresentazione che è visiva e tattile dello spazio che ci circonda quindi il nostro corpo si muove ha idea dei potenziali contatti che possono intervenire con l'ambiente e utilizza la visione per fare predizione di questi potenziali contatti questo è stato studiato diciamo una serie di esperimenti di neurofisiologia di fatto per cui si è trovato che certe aree premotorie esistono effettivamente dei neuroni che rappresentano tatto, visione e comportamenti motori contemporaneamente questi sono un po' di esempi tra l'altro alcuni risultati di un gruppo italiano di Parma e una serie di altri risultati che ci fanno vedere di fatto come ci siano dei neuroni che rappresentano un pezzo del nostro corpo non importa come io sia messo nello spazio quel neurone rappresenta sempre quel pezzo del corpo sia dal punto di vista tattile ma anche con una risposta che si estende nel caso che ci sia qualcosa che mi sta per toccare quindi evidentemente è una risposta visiva perché il tatto non può sentire il contatto prima che sia avvenuto allora noi abbiamo immaginato di fare lo stesso con l'ICAB in particolare coprendo il robot con questi sessori tattili di cui vi ho parlato questo è un esempio di come viene coperto il robot alla fine e questo è come si attivano se io tocco il robot allora mettendo insieme tutte queste cose possiamo immaginare un comportamento di questo tipo possiamo di fatto chiedere al robot in caso di interazione sia questa visiva o tattile di rispondere ad esempio in modo da evitare il contatto questo è un comportamento utile perché se io ho un robot che si sta muovendo in un ambiente mi avvicino o lo tocco voglio che il robot si fermi o anzi che se io lo spingo questo vada indietro eviti il contatto con me e questo è quello che si vede in questo comportamento ora magari vi sembra banale perché dite insomma io lo spingo questo si deve muovere bene no se io tolgo la pelle la disconnetto il robot è rigido lui sta nella sua posizione non sente il contatto con l'ambiente rimane lì bello rigido questo comportamento deve essere realizzato utilizzando algoritmi utilizzando del software che fa in modo che in caso di contatto o di vicinanza di contatto il robot si muova muova tutti i suoi motori li accenda in modo da spostarsi da questo potenziale contatto questo è un altro esempio dove succede la stessa cosa quindi vedete anche che è la risposta di questa sorta di pelle elettronica al tocco della persona e anche se non si capisce tanto dal video potete immaginare quanto sia gentile questa interazione io con un dito riesco a spostare il robot provate a prendere lo stesso iCub senza quando è spento e scoprite che è un oggetto rigido che non si muove questa tecnologia però è importante per una serie di motivi se io sono in grado di misurare l'interazione fisica con l'ambiente e la pelle del robot è in grado di fare questo posso fare anche delle altre cose in particolare quello che vedete in questo video posso fare in modo che durante un movimento io mantenga l'equilibrio perché so come è fatta l'interazione del mio piede col pavimento e questo lo posso fare sia diciamo che mi stia muovendo quindi mantenendo e controllando la forza alla caviglia esattamente come fareste voi ripetendo questo stesso esercizio e poi vedete che se il robot viene toccato ha ancora questo comportamento flessibile quindi lui sente il contatto e compensa gli sbilanciamenti dovuti all'interazione mantenendo ancora l'equilibrio lo stesso è vero se io faccio questa cosa questo è un pochino più complicato per cui lui è in equilibrio su un piede solo viene spinto e deve cercare di compensare mantenendo ancora una volta l'equilibrio notate una cosa la telecamera trema quindi immaginate l'impatto del piede col pavimento fa tremare la telecamera un pavimento flottante quindi è semplice che tremi però dà un'indicazione di quanto il diciamo l'interazione con l'ambiente sia o possa essere piuttosto intensa immaginate voi mentre scendete le scale vi dimenticate dell'ultimo gradino tipicamente sentite una botta piuttosto forte ebbene il robot più o meno è nella stessa situazione con la differenza che voi magari un gradino lo compensate perché il vostro corpo è flessibile se lo fa il robot si spacca qualche componente meccanico quindi ci sono delle cose da capire ora con questo dove vorremmo arrivare vorremmo arrivare di fatto a un robot che è in grado di fare queste cose questo è un altro esercizio dove lui usa il suo stesso corpo la sua stessa dinamica il fatto che possa lanciare una parte del suo corpo quindi con una certa inerzia per tirarsi in piedi io non lo so fare questo però l'idea è che un giorno avremo un robot che di fatto ha le stesse prestazioni di uno sportivo o che sia in grado di fare sport in qualche forma perché questo tipo di comportamento è quello che ci aspettiamo essere necessario in un ambiente che è popolato da esseri umani che lasciano cose sparse dappertutto se io metto un robot in casa è facile che trovo il gatto che passa vicino al robot oggetti dappertutto i bambini che lasciano qualunque cosa magari un giorno c'è dell'acqua sul pavimento tutte situazioni che se il robot non è in grado di gestire rischia di cadere quindi poi di fare dei danni o di farsi male in questo caso stiamo lavorando in questa direzione quindi nell'idea di poter muovere il robot in una maniera che è molto simile a quella dell'essere umano ora detto questo esiste un altro aspetto che vorremmo curare di questo robot finora di visione ne abbiamo parlato poco la cosa fondamentale o il problema principe della visione è riconoscere quello che sta vedendo il robot queste sono di fatto le stesse tecnologie che troviamo ormai nella macchina fotografica nello smartphone nella macchina senza guidatore quindi sono più o meno cose alla portata perché queste cose sono diventate così interessanti o perché hanno cominciato a funzionare negli ultimi anni di fatto per una ragione se volete anche divertente perché qualche anno fa nel 2012 in particolare un ragazzo tutto sommato abbastanza giovane ha pensato di implementare alcuni di questi algoritmi dentro le schede che servono per realizzare i videogiochi quindi ha combinato di fatto una serie di miglioramenti che ci sono stati negli algoritmi degli anni passati con la capacità di calcolo elevata delle schede per videogiochi le schede per videogiochi immaginate fanno il rendering del gioco in tre dimensioni in tempo reale hanno dei chip piuttosto potenti questi chip guarda caso hanno delle caratteristiche che le rendono ideali per implementare un tipo di algoritmo di intelligenza artificiale questo combinato con la capacità che abbiamo adesso di memorizzare grossi quantitativi di dati in particolare non so uno dei database che si usano più spesso in visione contiene 15 milioni di immagini ha permesso di realizzare algoritmi che cominciano a funzionare peccato però che nel caso del robot l'approccio se volete naive a questo problema non funzioni tanto bene per un paio di motivi uno è che dove questi database quello con 15 milioni di immagini ha ad esempio mille oggetti tantissimi presi da e sono oggetti tutti diversi se io parlo ad esempio la tazza la categoria della tazza contiene tante tazze e sono tutte diverse mentre nel caso del robot quello che io vedo probabilmente sono quasi sempre gli stessi oggetti quindi un numero più piccolo ma da punti di vista che possono essere anche molto diversi e tante volte l'oggetto non è chiaramente visibile perché magari c'è la mia mano magari è alla periferia dell'immagine perché io mi sto muovendo e il robot non è riuscito a vederlo bene quindi i dati hanno delle caratteristiche un po' diverse e in più quello che deve succedere nel caso della robotica che non posso impiegare tre secondi a capire che cosa c'ho davanti sarebbe un robot lentissimo che non sarebbe in grado di interagire con me il massimo di tempo che mi è consentito sono diciamo 100 millisecondi 100 millisecondi devo dare una risposta quindi quello che abbiamo iniziato a fare è stato ma vediamo un po' come vanno le cose se io provo ad allenare il sistema in una maniera del tutto naturale faccio vedere l'oggetto dico un nome acquisisco i dati provo gli algoritmi vediamo cosa succede allora in questo approccio semplice sfortunatamente c'è un problema che la qualità funziona diciamo all'aumentare del numero di oggetti che io faccio vedere al robot la qualità scende e scende oltre i limiti accettabili quando ho due oggetti 3 5 riesco a avere delle prestazioni superiori al 90% quando il numero di oggetti scende aumenta passiamo a 30 50 il risultato è che vado sotto ad esempio il 60% questo vuol dire che io chiedo il caffè mi torna indietro all'aranciata 4 volte su 10 la cosa non va tanto bene se io faccio una richiesta al robot mi aspetto che riconosca le cose giuste allora si possono fare delle cose per migliorare questi metodi e quello che si vede da questi grafici successivi è che faticando un po' si riesce a riportare le prestazioni a livelli più accettabili ma si possono fare cose ancora più complicate quindi questo solo per dire che un po' di ricerca bisogna farla non posso prendere il risultato di Google e portarlo dentro il robot e in particolare devo fare delle cose per cui utilizzo i 15 milioni di immagini per allenare il mio algoritmo utilizzo le mie immagini quelle che ho fatto vedere io al mio robot per raffinarlo e poi costruisco algoritmi che possono funzionare in tempo reale per riconoscere effettivamente gli oggetti questo di fatto è quello che abbiamo dovuto fare allora scopro è una slide un po' tecnica ma passo velocemente che riesco a riportare le prestazioni a numeri diciamo il confronto tra quello che ho chiamato l'approccio semplice e quello più serio a numeri che tornano verso il 95% il 96% per cui riesco a fare effettivamente tanto bene quanto fa l'algoritmo di Google però questa volta sul robot e in tempo reale il risultato è quello che si vede in questo video dove vedete di fatto io che ho il mio collaboratore che fa vedere un oggetto al robot l'oggetto viene identificato riconosciuto e sulla destra si legge poco magari ma c'è un'etichetta che è il nome dell'oggetto che è stato appena riconosciuto e questo funziona di fatto mentre noi facciamo vedere l'oggetto al robot la stessa cosa diciamo con lo stesso approccio posso fare un'altra cosa simile chiedere al robot di indicare un certo oggetto quindi dov'è la spugnetta e lui indica la spugnetta e con lo stesso approccio posso anche fare un'altra cosa posso riconoscere le azioni eseguite da una persona di fronte al robot quindi io mi muovo e il robot riconosce le azioni che sto eseguendo qui c'è una fase prima di allenamento in questo video e poi si vede il riconoscimento vero e proprio lo taglio in pochi secondi perché andiamo un po' lunghi in questa presentazione ora posso fare ancora delle altre cose e in particolare a questo punto posso sfruttare veramente il fatto che io ho un robot quindi il robot non può vedere le cose ma abbiamo visto prima le può anche toccare quando le tocca c'è il senso del tatto quindi quello che abbiamo immaginato ultimamente è quello di dire ok io vedo l'oggetto lo prendo lo ruoto lo guardo faccio delle cose se non sono contento lo poggio lo riprendo magari faccio una presa diversa posso fare tante azioni sullo stesso oggetto bene si scopre che se io consento al robot di toccare l'oggetto per un po' fare 4 o 5 prese riconoscimento guardate il grafico blu più in alto si può raggiungere un riconoscimento del 100% quindi nel momento in cui io combino tutte queste azioni con la visione riesco ad avere dei risultati che sono praticamente perfetti io un risultato di apprendimento automatico col 100% di riconoscimento non l'ho mai visto è un approccio interessante credo che le cose possano diventare piuttosto interessanti quello che vediamo in quest'altro video è il passo successivo quindi poter fare manipolazione mentre tengo l'oggetto in mano quindi io l'oggetto non ho neanche bisogno di poggiarlo e riafferrarlo posso tenerlo in mano in equilibrio e portarlo nella postura che mi serve di più questo è utile perché a un certo punto io dovrò insegnare al robot a utilizzare degli strumenti quello che vedete in quest'altro video è un caso dove c'è un'azione che il robot non riesce a compiere se non utilizzando uno strumento che guarda caso gli abbiamo reso disponibile e questo è un primo tentativo se volete un primo aspetto questo è quello che faremo prossimamente quindi non solo riconoscere le cose che il robot vede ma anche sapere che alcune cose hanno una funzione e in particolare il rastrello può essere utilizzato per avvicinare un oggetto che altrimenti sarebbe troppo lontano quindi tutti questi sono dei pezzettini che vanno in questa direzione qui ora c'è un'altra cosa che vogliamo fare però con il robot e in particolare vorremmo parlare con il robot in maniera naturale e qui conoscete Siri conoscete lo speech di non so Cortana su Windows piuttosto che un altro riconoscitore bene però viene fuori una cosa interessante parlando con i nostri colleghi neurofisiologi prima vi ho detto del tatto bene quel stesso gruppo di neurofisiologi ha fatto anche degli altri esperimenti dove il motorio e in questo caso il parlato sono connessi a livello neurale in particolare hanno fatto un esperimento piuttosto semplice concettualmente dove hanno stimolato una certa parte del nostro cervello di nuovo un'area motoria e l'hanno stimolata in maniera selettiva rispetto al fonema che veniva ascoltato dal soggetto quindi io ascolto un fonema che richiede il movimento delle labbra mi stimolano l'area che muove le labbra normalmente oppure ne stimolano un'altra come controllo e quello che si vede da questi esperimenti è che c'è una modifica delle mie capacità percettive dovuta alla stimolazione di un'area motoria questo è stato abbastanza interessante perché qual è la connessione tra quello che capisco del parlato e l'attivazione di un'area motoria se io sto solo lì seduto ad ascoltare in teoria le mie aree motorie non servono a nulla in realtà no pare che in situazioni particolari le aree motorie si attivino in particolare si attivano quando il riconoscimento è difficile quindi questo effetto che vedete in questi risultati è vero o si verifica solo quando la situazione è complicata in particolare gli stimoli qui erano stimoli rumorosi quindi il parlato era coperto da tanto rumore bene abbiamo rifatto la stessa cosa sul robot abbiamo scoperto che questo nostro sistema abbiamo ispirato all'aumentare del rumore fa meglio che un sistema che utilizza solo esclusivamente informazioni acustiche quindi abbiamo fatto di fatto la seguente cosa abbiamo preso informazioni acustiche e motorie abbiamo allenato una macchina simile a quella che riconosce le immagini del tutto equivalente a riconoscere fonemi dopodiché informazioni motorie non ne abbiamo più testiamo la macchina solo con informazioni acustiche quindi solo col parlato esattamente l'esperimento che hanno fatto i neurofisiologi trasportato su un computer e quello che scopriamo è che funzioniamo meglio di un sistema tradizionale ora abbiamo fatto la stessa cosa col suono della metropolitana con il suono della caffetteria immaginate il bar la mensa del nostro istituto durante l'ora di pranzo quindi c'è un rumore di sottofondo incredibile sulle stesse frequenze del parlato perché sono tante altre persone che parlano e il nostro calcolatore deve riconoscere cosa viene detto e abbiamo scoperto che questo sistema fa meglio di un sistema abbastanza conosciuto in particolare un risultato di Microsoft di un paio d'anni fa ovviamente non è la fine della storia però questo è per di nuovo mettere o connettere un approccio più ispirato con un risultato concreto le cose sulle quali stiamo lavorando in questa direzione sono riassunte in questo video dovete guardare i sottotitoli perché c'è l'audio ma diciamo non si sente qui c'è una parte di interazione dove io parlando di fatto sfruttando il microfono del cellulare parlo con robot purtroppo ancora non si riesce a parlare a distanza perché la qualità è troppo bassa però posso parlare al cellulare parlo con robot e il robot mi dà delle risposte questo c'è un pezzo di lavoro in più il riconoscimento del parlato una cosa la generazione di risposte è un altro sistema di questo non ve ne parlo in questo momento ma per darvi un'idea che si possono fare anche queste cose questo è il siri equivalente solo che non è siri è un altro sistema ora pochino per concludere farvi vedere anche alcune delle ultime direzioni volevo dirvi che questa ricerca però rimane complicata qualche risultato c'è ma non tutto va sempre bene in particolare c'è un motivo fondamentale è difficile dare delle specifiche di solito in ingegneria uno specifica cosa vuole ottenere dopodiché si mette a progettare possibilmente ottiene dei risultati e qui invece specifiche non ce n'è perché il robot deve poter fare tutto il contesto è molto poco caratterizzato perché l'ambiente naturale è molto complicato e quindi è complicato fare anche la ricerca o farla diventare diciamo prestazioni accettabili in ambienti generici non definiti a priori c'è anche una questione diciamo più se volete emozionale umana io mi aspetto sempre che queste macchine un robot umanoide debba fare di tutto e poi scopro che in realtà è limitato e questa differenza tra le aspettative e la realtà è quella che tante volte ha limitato poi l'utilizzo dei dispositivi e chiaramente io non so cosa succederà nel futuro però mi piacerebbe andare a guardarlo noi ci abbiamo o immaginiamo delle cose queste sono alcune di queste cose e poi vi dico come le stiamo implementando noi immaginiamo una robotica che abbia tanto nuovo materiale a bordo i robot sfortunatamente la meccanica non è così robusta come dovrebbe essere questo è uno si immagina il robot forte grosso che spacca tutto in realtà no se io prendo iCub e mi appoggio ad iCub quasi sicuramente lo rompo e se prendo anche quello grosso il modo in cui il robot grosso può fare del male cadendomi addosso ma in realtà a livello di potenza per sé non è così forte rispetto alla sua massa di fatto un muscolo umano è molto più forte di un motore elettrico dipende dalla dimensione ovviamente l'intelligenza artificiale è un altro elemento chiave noi stiamo facendo delle cose il resto del mondo le sta facendo anche con mezzi non da poco non so DeepMind la ditta di Google che si occupa di intelligenza artificiale ha quelle 200 persone che non fanno altro quindi con un approccio molto forza bruta tante risorse però sicuramente ci saranno dei risultati interessanti c'è un aspetto energetico di cui non vi ho parlato queste macchine dovranno essere autonome e al momento consumano mentre il nostro cervello consuma 30 watt il computer che devo utilizzare per fare i conti molti meno che può fare l'intelligenza artificiale del robot richiede dei kilowatt è chiaro che le cose non funzionano non posso tenere acceso un robot con batterie che devono generare dei kilowatt per giornate intere i numeri non tornano una cosa che potrebbe succedere però è che la connettività quindi la possibilità di fare calcoli distribuiti in rete giocherà un ruolo fondamentale in queste tecnologie questo perché non vediamo una possibilità di inserire a bordo del robot tutte le capacità di calcolo di cui avremo bisogno a breve allora noi abbiamo immaginato di andare in queste direzioni con una nuova scommessa o con un nuovo robot per provare a prendere quello che è il risultato della ricerca iCub e portarlo più vicino al mercato in particolare ci siamo fatti questa pensata abbiamo detto ci facciamo un i qualcosa che è un robot immaginato per il servizio questo è photoshop quindi non è il robot reale questo dovrebbe diventare quello che noi immaginiamo l'umanoide personale abbiamo fatto anche un altro esercizio un po' strano abbiamo iniziato a parlare con dei designer designer industriali quindi la prima cosa che io ho ricevuto parlando con queste persone è stato questo insieme ad altri 4-5 bozzetti questi sono fatti a matita e insomma la cosa un po' strana era immaginare che di questi 5 possibili robot ce ne fosse uno effettivamente realizzabile che poi potesse realizzare le funzioni tipiche di un robot di servizio alcuni vi dico subito richiedevano soluzioni fisicamente infattibili perché c'erano braccia troppo lunghe troppo sottili piuttosto che proprio meccanicamente non poteva stare in piedi invece questo qua sembrava quello più realizzabile per cui abbiamo iniziato a progettare sono venute fuori delle cose interessanti il robot l'abbiamo fatto quasi tutto di plastica non tutto dove serviva ancora il metallo abbiamo immaginato di usare metallo povero quindi quella che si chiama la mira piegata che è facile da realizzare costa poco la plastica abbiamo fatto gli ingranaggi di plastica non sono un'estrema novità però per un robot di una certa dimensione abbiamo dovuto trovare delle soluzioni abbastanza particolari perché altrimenti non sono realizzabili ed è un robot che nella sua categoria ha poi tutte le caratteristiche dell'iCub quindi ha il tatto ha la visione ha la capacità di essere controllato esattamente come l'iCub cedevole al contatto e così via queste sono altre immagini e questo è poi alla fine è quello che effettivamente abbiamo realizzato questo è il primo video dopo che abbiamo finito la costruzione del robot si vedono un po' delle cose particolari la faccia non c'è più perché la faccia di iCub costa troppo e abbiamo pensato di mettere uno schermo curvo che rappresentasse la faccia dietro lo schermo in realtà ci sono telecamere microfoni sensori esattamente come c'è in iCub poi un'altra cosa importante un robot così se lo metto in casa deve poter raccogliere le cose da terra quindi come faccio immagino non si può inchinare perché non ha le gambe quindi ha le braccia che in realtà si allungano il torso che si alza e si abbassa e quindi riesce a mettersi in una configurazione che attraverso la quale raggiunge il pavimento e raccoglie l'oggetto da terra e qui si vedono un po' alcuni di questi movimenti si vede mentre si alza allunga il braccio e così via e cosa ci aspettiamo che possa fare questo robot ma ci aspettiamo che un giorno sia lo shopping assistant piuttosto che l'assistente in ospedale piuttosto che il compagno che ci aiuta a organizzare la vita digitale il nostro lavoro e quant'altro abbiamo iniziato a mettere a bordo di questo oggetto delle caratteristiche per cui questo video vedete brevemente il riconoscimento oggetti esattamente quello che c'è su iCub trasportato sul robot può avere un'interfaccia un po' più strana può far vedere delle scritte può mostrare delle icone e così via oppure può fare cose di questo tipo per cui gli si chiede qualcosa e lui ce la va a prendere questo fa vedere un pochino nuovo le caratteristiche del robot si alza allunga un braccio afferra un oggetto ora dovrebbe andare un po' più veloce perché se no come siamo a tempo ok allora salto subito alla ultima ultima conclusione così vi lascio solo con una frase avete visto il robot in un suo utilizzo in casa vi lascio con una frase che di nuovo è tratta da una delle mie passioni la fantascienza per cui è un brano di iRobot che è abbastanza interessante c'è una conversazione tra due persone una chiede alla seconda quanti anni hai questa risponde 32 la prima dice ma allora non hai mai conosciuto un mondo senza iRobot ora di per sé la frase è banale ma io ho immaginato mio figlio che adesso ha 12 anni e per lui il mondo ha sempre avuto internet i computer videogames tridimensionali musica che è solo digitale la videocassetta non è mai esistita per lui l'analogico non è mai esistito io immagino che nel 2030 magari giusto secondo le statistiche che abbiamo letto prima potrebbe esistere una generazione che non avrà mai conosciuto un mondo senza il robot personale grazie un applauso e un grazie a Giorgio Metta e anche aiCub visto che quello che ci ha colpito di più probabilmente sono le cose che apparentemente semplici che facciamo tutti i giorni ma che messi in una parte poi richiedono un po' di lavoro per un grosso un grosso grosso lavoro so che abbiamo mezz'ora io avrei tante domande da fare ma ci rinuncio nel senso che vorrei vorrei invece raccogliere qualche domanda da parte vostra poi magari ne aggiungiamo qualcuna anche noi ma quindi subito senza perdere tempo chi alza la mano avrà un microfono e potrà fare qualche domanda prego grazie allora forza ah beh certo anche curiosità anche domande su che cosa ci sta dietro su quali problemi ci sono dovete dimostrare almeno di avere comincio io sì sono il professor Manenti Leonardo vengo dal liceo Pascal e la la cosa che io insegno filosofie quindi rifletto più che altro sulla sull'interazione che vi può essere uomo macchina e poi sulla distinzione che alla fine può essere fatta tra l'uomo e la macchina nel senso che se si svilupparsero tecnologie tali per cui i robot potessero divenire sensibili reattivi e provare emozioni allora si aprirebbe veramente un problema di carattere morale forse anche no e la fantascienza l'ha utilizzato spesso questa problematica no Spielberg il bambino Robol il replicante ecco come risponde Giorgio Metta a questo problema cioè è giusto sviluppare sensibilità reattività emozioni emozioni e sentimenti io mi affeziono le cose per esempio sono affezionato la mia macchina o cose del genere però finisce lì ma se uno poi mi parla ma io sono affezionato al mio lato posso aggiungere no soltanto una domanda perché così la possibilità di avevo una domanda forse un pochino più ristretta ma che va un po' in quella direzione allora tutti voi probabilmente avrete letto qualche libro di Asimov e conoscete le tre leggi della robotica la prima dice me lo sono copiata così un robot non può recar danno a un essere umano ne può permettere che a causa del proprio mancato intervento un essere umano riceva danno questa è la prima la prima legge poi ce ne sono altre due ma le trascuro per il momento allora credo che Meta conosca molto bene un problema di tipo etico che dietro a questa legge della robotica potrebbe esserci e che si sta già ponendo concretamente tutti voi sapete che cominciano ad esserci in giro delle auto senza guidatore che sono dei robot semplici per alcuni aspetti ma comunque senza guidatore allora qualcuno si sta ponendo il problema di fronte a una situazione in cui una di queste automobili dovesse trovarsi nelle condizioni di dover scegliere tra salvare l'autista che ha a bordo e salvare invece delle persone che per caso sono sulla strada bloccate pensate un gruppo di bambini un gruppo di persone che sono sulla strada e la macchina non abbia la possibilità di evitarli con una normale operazione diciamo di frenata o quant'altro che cosa deve scegliere la macchina e in questo caso cosa succede della prima legge della robotica la risposta è più semplice di quanto si pensi almeno in questo caso a mio modo di vedere non lo sceglie la macchina lo sceglie chi ha scritto l'algoritmo per cui è un problema del tutto umano qualcuno andrà dal produttore delle automobili ma qual è la soluzione etico-filosofica che il produttore dovrà avere? è difficile da dirsi però è la stessa la stessa decisione di fronte a qualunque tipo di tecnologia non necessariamente automatica per cui lì è abbastanza semplice se la macchina invece diventa capace di decisioni autonome ma veramente autonome perché lì è solo un algoritmo quindi qualcuno ha già preso la decisione prima vale di più il salvo backing e software e altre questioni diciamo come sappiamo poi succedono anche gli incidenti perché la tecnologia fallisce però ammesso che vada tutto bene qualcuno avrà preso la decisione se è meglio il guidatore o i cinque passanti questo capisco che ci sia il problema etico però non è la tecnologia che lo risolve questo problema qua ma se fosse i cab e se fosse i cab è lo stesso perché al momento tutte queste tecnologie non hanno quel grado di sofisticatezza che di cui appunto bisognerebbe parlare e ne siamo abbastanza lontani quando io dico abbastanza lontani tanto lontani facciamo cose semplici e soprattutto abbiamo capacità di sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale che funzionano bene in un particolare contesto molto stretto per cui io dico oggi riconosco come sono fatte le bottigliette alleno l'algoritmo a riconoscere le bottigliette ma finisce lì lo stesso cervello non può domani giocare a scacchi o fare guidare un'automobile sono tutti specifiche applicazioni separate dove dietro probabilmente c'è stato il lavoro di tanti ingegneri per tanto tempo per realizzare quelle specifiche applicazioni e al momento questo è quello che ci consente di fare l'intelligenza artificiale quindi forse anche un termine sbagliato chiamarla intelligenza non generalizza nello stesso modo in cui generalizza la nostra intelligenza io imparo a giocare un gioco dopodiché gioco qualunque altra cosa se la macchina impara a giocare a un gioco basta è quello per cui il computer che gioca a scacchi non è lo stesso oggetto che lo stesso software non gioca anche a DAMA non gioca a Space Invaders piuttosto che un altro qualunque altra cosa sono cose diverse se esisterà un tipo di macchina che invece ha questo tipo di intelligenza più generale allora potremmo cominciare a chiederci anche i problemi se e chi proverà emozioni se è la macchina che ha delle emozioni simulate o se piuttosto noi svilupperemo un certo tipo di attaccamento magari inizialmente simile a quello che proviamo per un animale domestico e poi via via quello che potrebbe essere dipende un po' dal livello anche di interazione di questo tipo di oggetti io posso immaginare un robot che si muove abbastanza bene fa delle cose forse è considerato quasi un animale domestico per tipo di livello di empatia di comunicazione poi il resto è un po' fantascienza non saprei neanche come rispondere devo dire però che c'è ci sono dei gruppi di ricercatori che si occupano di queste cose c'è un numero speciale che è stato lanciato da alcuni miei colleghi su coscienza e robot che un po' attacca questi problemi nel senso che vediamo cosa uscirà poi a livello di pubblicazioni ma per ora c'è solo la call attraverso la quale si chiedono pubblicazioni su questo tema e ci sono copre un po' tutti gli aspetti l'attenzione sistemi emotivi simulati per la robotica e così via una serie di argomenti consapevolezza senso del sé c'è un po' di tutto ovviamente è un mix tra filosofia scienze cognitive e tecnologia non so cosa verrà fuori perché è appena uscita la chiamata poi arriveranno un certo numero di articoli e si vedrà cosa verrà pubblicato però questo è un esempio del fatto che poi alla fine scienziati e in generale la ricerca si pone le domande non sempre abbiamo delle risposte al momento queste mi sembrano al mio modo di vedere un po' in là a venire però è interessante cominciare a porsele quelle sull'etica e anche sulla regolamentazione dell'uso delle macchine invece sono cose che potrebbero essere più concrete l'auto senza guidatore avrà bisogno magari di un suo tipo di assicurazione di un suo tipo di codice della strada e magari quando avrò i robot che si muovono nell'ambiente dovrò immaginare se non è l'equivalente della prima legge però il robot è sempre precedente all'essere umano qualcosa di questo tipo per cui vede coi suoi sensori si ferma anche perché magari i tempi di reazione del robot sono 10.000 secondi quelli dell'essere umano 180 quindi questo potrebbe essere una possibilità direi problemi aperti io me ne occupo fino a un certo punto nel senso leggo un po' di queste cose come le leggono tutti qualche altra domanda? se non le faccio una io allora ne faccio una dunque come avete notato e mi sembra meriti di essere sottolineato Giorgio Metta da un lato sta come dire mandando i suoi sogni molto avanti credo che senza sogni difficilmente si può arrivare a fare ricerca perché sognare in piccolo tanto non costa niente e quindi d'altra parte però è da bravo ricercatore molto prudente molto sobrio sa bene che sa quanto costa fare queste cose non è sufficiente ovviamente come dire immaginare e sognare bisogna poi realizzare concretamente e la ricerca va avanti con molta anche lentezza inevitabilmente chissà se i suoi figli o i vostri figli avranno la possibilità di interagire davvero con un robot umanoide che abbia almeno una parte delle possibilità che sono presenti però abbiamo visto una cosa e su questo vorrei chiedere a Metta un suo parere abbiamo visto che al di là di iCub che è la piattaforma di ricerca su cui stanno lavorando eccetera hanno pensato anche a un robot più semplice R1 ce l'ha fatto vedere un attimo fa R1 dovrebbe fare delle cose concrete dovrebbe magari portarci da bere come nell'esempio dovrebbe forse poter assistere una persona anziana o altre cose di questo genere ora noi sappiamo che la tecnologia non questa tecnologia la tecnologia ad esempio la robotica industriale che sono presenti in molte aziende bresciane molti di voi probabilmente avranno visitato qualche azienda bresciane avranno visto dei robot industriali che caricano le macchine a controllo numerico e via di questo passo molto diffuse mi ha colpito recentemente sono stato a visitare un'azienda di Brescia la quale non è un'eccezione la quale ha delle macchine a controllo numerico ha dei robot che le alimentano queste macchine funzionano 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno anche il giorno di Natale il primo dell'anno uno si chiede ma come non c'è nessuno continuano a lavorare se si rompono mandano un messaggio un sms al manutentore sul reperibile il quale va in quel caso anche il giorno di Natale o il primo dell'anno a fare questo allora questa robotica e tutta l'automazione ha come dire determinato un forte aumento della produttività soprattutto nella manifattura e ad esempio un dato che ho preso in previsione di questa chiacchierata pensate che nel 1990 a Detroit le prime tre imprese automobilistiche che producevano automobili che stavano a Detroit facevano un fatturato di 65 miliardi di dollari impiegando un milione e duecentomila lavoratori nel 2016 lo scorso anno in Silicon Valley le principali tre società hanno fatto un fatturato di cento sessanta scusatemi di mille cinquecento miliardi di dollari con cento novanta mila occupati questo per dirvi il diciamo il valore prodotto per occupato dagli anni settanta del novecento ad oggi è più che triplicato è più che triplicato allora uno si può chiedere ma allora che lavoro faremo in futuro una mia risposta fino all'altro giorno era probabilmente avremo molta attività da svolgere nel car giving nell'assistenza nelle relazioni sociali ad esempio con le persone anziane allora mi chiedo se si doffondessero un robot come R1 anche questo tipo di attività rischia di scomparire o no? no io penso che queste tecnologie possano essere utilizzate in due modi una è quella che abbiamo visto dire il robot che mi porta ad avere l'assistenza ed è un aspetto oppure possiamo prendere la stessa tecnologia identica e metterla in fabbrica semplicemente avendo dei sistemi più flessibili di quelli che abbiamo adesso diciamo o da una parte anche la fabbrica non è tanto flessibile perché al momento io devo comunque riprogrammare se cambio produzione devo riprogrammare completamente le macchine un lavoro costoso quindi questo tipo di tecnologie è quello che potrebbe fare o l'aspetto produttivo oppure quello di assistenza diciamo sono le stesse alla fine quindi non vedo questo problema la domanda che i dati che cercavo di presentare all'inizio andavano proprio in questa direzione dire ok o mi manca la forza lavoro da una parte o mi manca l'assistenza quindi una delle due potrebbe mancare in che proporzioni dipenderà da che tipo di società vorremmo avere scelte diciamo scelte è struttura da immaginare cioè c'è tanto io se vedo queste tecnologie nel vero futuro quello tra 150 anni posso aspettarmi una produzione che ormai non costa più nulla e delle persone che fanno molto poco o comunque che hanno in proporzione un'attività lavorativa che costa poco tempo questo è un potenziale futuro però è tutto da immaginare perché insomma queste cose sono complicate essendoci di mezzo l'essere umano e non la macchina diventano piuttosto complesse sì una delle cose che c'è lo spazio per una domanda no prego certo se non c'è qualche studente che preferisco che lo faccia lui abbiamo avuto una una lecture di Moshe Bardi a Roma che tu conosci immagino e che ha centrato tutto sul fatto dice gli economisti praticamente stanno prevedendo che fra 30 a 40 anni la produttività come diceva adesso Provasi sarà talmente elevata e talmente tante funzioni ma in tutti i settori dall'industria all'assistenza personale addirittura alla guida saranno completamente sostituite e la gente ci avrà poco da fare citava addirittura il fatto che negli Stati Uniti ci sono 10 milioni di persone che guidano automezzi o taxi che se le macchine autoguidate funzionano meglio hanno meno incidenti costano meno come assicurazione eccetera eccetera e sicurezza e tutto verranno sostituiti e non avranno più nulla da fare allora il problema che lui si poneva alla fine di tutta questa lecture tecnologica come hai fatto tu dice cosa faremo che è la domanda e quindi aggiungevo questo fatto nel senso che gli economisti che stanno studiando queste cose anche Krugman in particolare ha scritto delle cose sull'argomento prevedono che il tempo di lavoro sarà estremamente ridotto e quelli che questo per gli studenti è importante quelli che troveranno un lavoro devono essere molto istruiti penso di sì un'altra cosa che potrebbe essere molto valorizzata è la componente umana quindi le persone probabilmente andranno a cercare lavoro fatto a mano no beh sicuramente filosofi letteratura informatici non credo che avrebbe robotici tanto in un primo periodo probabilmente esisterà la figura dello scrittore di app per i robot come esiste quelli che scrivono le app per il smartphone probabilmente esisteranno dei nuovi lavoro esisterà la manutenzione dei robot come esiste per l'automobile perché qualcuno alla fine sistemi meccanici si rompono ci sarà da fare il tagliando al robot e questo dovrà essere programmato e ci saranno delle persone che lo faranno quindi la vera automazione è quella che toglierà tanti posti di lavoro è un po' nel futuro secondo me c'è una probabilmente delle fasi intermedie dove un po' di spostamenti saranno necessari sicuramente due cose per concludere così poi verissime queste cose credo che di poterle condividere assolutamente probabilmente andremo incontro e forse voi stessi avrete modo di sperimentare questo a due fenomeni importanti uno che si ridurrà il tempo di lavoro in questo momento ancora non abbiamo la più palle di idea di che cosa fare perché non possiamo dilatare in maniera infinita il tempo libero cioè finora il tempo libero è un residuo rispetto al tempo di lavoro mentre cambia cambia è piacevole cambia e quindi cambierà davvero c'è un problema anche culturale in qualche modo su cui dovremmo cominciare a ragionare oltre che economico perché poi ci sarà il problema di come distribuire ovviamente le risorse prodotte da queste macchine sulla popolazione le disuguaglianze che ci sono oggi ovviamente devono essere in parte riviste e ripensate l'altra cosa è che quello che vi aspetta sicuramente e quel lavoro di Vardi che citava un attimo fa il professor Piva è ricco di dati interessanti da questo punto di vista aumenteranno le persone che svolgeranno attività non rutinarie e di tipo cognitivo e quindi appunto anche la manutenzione dei robot piuttosto che le applicazioni per le stesse e diminueranno invece probabilmente coloro che svolgono attività più rutinarie e di tipo dove la componente cognitiva è meno ampia e quindi come dire il futuro che vi attende sicuramente anche se i ritmi possono essere diversi potrebbe essere di questo tipo credo che vi ringraziamo ringraziamo il professor Mette e facciamo un applauso a lui grazie grazie a tutti grazie davvero mi auguro che ritornerete al collegio con la vostra scuola o con magari qualcuno di voi ha intravisto una sua strada per il futuro c'è modo anche di tornare di venire a visitarlo di discutere con i nostri studenti ora io volevo ricordare il testo che il professor Giorgio Mette ha scritto con Roberto Cingolani umani e umanoidi edizione il mulino se qualcuno di voi volesse continuare un po' questa affascinante riflessione e ricerca che nella mattinata abbiamo realizzato devo dare grazie do una comunicazione di servizio gli studenti di Lovere si fermano e invece gli studenti di Gardone raggiungono Marta perché adesso per gli studenti che l'hanno prenotata c'è una piccola visita e discussione al collegio grazie ancora buon rientro e arrivederci